Buongiorno a tutti, metto a disposizione della mia cantina questa bottiglia di Amarone della Valpolicella, in Bretani della Nata 2007. L'Amarone è un vino tipico della regione del Veneto, ottenuto dai vitigni di Corvina Veronese, Corvinone e Rondinella. Durante la fase della vendemmia i grappoli vengono rigorosamente selezionati e lasciati ad appassire in stuoie o telai di legno per 3-4 mesi. Il che farà sì che durante la pigiatura si otterrà un succo molto concentrato e ricco di zuccheri, i quali, questi zuccheri appunto, durante la macerazione molto lenta, 90 giorni, faranno sì che il titolo alcolometrico del vino si aggererà intorno al 15-16% circa. Riposerà poi in botti di rouvere o barrique per due anni, prima di essere impottigliato. Salute! Grazie! 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 Grazie!